Ditemi che non è successo davvero Probabilmente non ve ne siete accor- NO! Salve a tutti ragazzi e benvenuti al 15esimo episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke Signori miei stiamo per giungere, siamo giunti a un punto cruciale della nostra avventura Nello scorso episodio abbiamo oltrepassato quel percorso di neve che ci divideva da diciamo la nuova zona della regione E tramite Kaori il campione della Lega Pokémon siamo venuti a sapere che questa era la base del Team Steam Signori miei oggi con questo travestimento decisamente spastico siamo pronti per entrare nella loro base Quindi signori miei vi invito a lasciare un bel mi piace per proseguire sempre meglio con questa serie Signori miei questa è la squadra, sono caricati al massimo, siamo pronti Ah, basta che non mi rompi le balle, ok entriamo Bene ci siamo tolti la divisa E signori miei non vorrei che qua fosse lo scontro finale col Team Malvagio Allora parliamo un po' a tutti nel caso ci dovessero dare delle informazioni importanti ma non mi sembra Ok già da qua mi sa che partono le sfide, perfetto Il Team Steam è pronto per comandare il mondo signori miei, noi lo fermeremo Solo rock Signori miei potrebbe essere anche una parte molto difficile e dopo la quale non rivedremo alcuni nostri Pokémon Purtroppo non è un fattore da escludere quindi sempre per darci più forza, più sostegno al nostro Bucefolo, a John Frog, a tutti quanti Lasciate un bel mi piace e mi raccomando rispondete alla domanda del giorno Questa volta serve davvero, lo so fra parentesi che non serve ma andiamoci di scaramanzia per una volta che non fa male Elysir, perfetto, allora qua ci sono un sacco di reclute, tutte con gli stessi Pokémon, perfetto Almeno, cioè è coerente perché alla fine le reclute sappiamo tutti che hanno gli stessi Pokémon No, muori, ok, perfetto E poi Gotitel, per ora le reclute sono di livello basso ma io ho sinceramente paura di incontrare i comandanti ragazzi I comandanti mi preoccupano davvero tanto e non vorrei assolutamente rischiare diciamo situazioni poco gradevoli Nel frattempo questo unfezante ci vuole fare malissimo ma noi mettiamo Bucefalo e lo apriamo con Trash Vediamo se buttiamo giù anche Gotitel, secondo me sì, quasi No, cosa ha fatto? Che mossa era? A parte che l'abbiamo buttato giù quindi no problem Ma penso fosse... Non ne ho idea Cioè no, in realtà ne ho idea però non mi viene il nome in questo... Psico-psico-slunch, psico-botto, una roba del genere Ok, andiamo ancora con le reclute, tanto abbiamo capito che hanno gli stessi Pokémon tutte le volte Bravo Tarzan, ancora ormai col raga, questo unfezante qua lo conosco a memoria Ice Beam e il prossimo è Gotitel che muore tantissimo Ole, perfetto, spero che nella prossima stanza voi abbiate dei Pokémon diversi Perché mi sta salendo il nazismo Pursuit Mandiamo John Frog Mandiamo John Frog, andiamo di Bodyslame ignorante E poi, controcoso, mi sono accorto adesso che io ho un Pursuit volendo Ma non gli faccio niente, che è sta mafia? Comunque buttato giù ma tra l'altro... Ok, sta registrando tutto, perfetto No, volevo sapere io, ma dall'altra parte... Cosa c'è invece? Un'altra recluta? Davvero? Ma mi sfida? No, ok, perfetto Ah! Così! Me la caghi da nulla, va bene, ci sta Ok, presumo ragazzi, presumo... Che questa porta qua si possa sbloccare dopo Dopo aver tipo, non lo so, premuto un pulsante Scopato la comandante, non ne ho idea Ok, continuano le reclute, come è giusto che sia del resto Ma mettiamo davanti, direi, John Frog Tra l'altro penso che i nostri Pokémon siano ben livellati Lo spero più che altro Perché altrimenti rischiamo davvero di andare a quel paese No, continuo ad avere gli stessi Pokémon E vabbè, signori miei, questo episodio funzionerà così Aia! Le reclute avranno gli stessi Pokémon E andremo a prendere a schiaffi in faccia Il nostro caro amico comandante Si spera più che altro Super Potion Non so perché, ogni tanto mi viene da chiamarle Super Potion Non penso ci sia un motivo sensato Ma comunque, direi di ararne per un'ennesima volta La solita recluta che evidentemente si materializza in posti strani Ok, John Frog, non farmi preoccupare per piacere Io conto su di te, non mi devi schiattare Abbiamo delle pozioni un po' più decenti Abbiamo 9 Hyper Potion Direi che sono perfette per ciò che dobbiamo fare Oh, oh, non ci credo Non ci voglio credere Hai un Pokémon diverso Pinsir Aia, Revenge Proviamo a mettere la Reindance E no, non due volte di fila Fermi, surf Olè E Megby Vabbè, Megby muore pure con uno sputacchio di Dio Ok, proseguiamo Tu Oddio raga, chi se lo ricordo Questo qua shotto al nostro Flygon Me lo ricordo benissimo Polneve e il nostro Flygon è morto 6 volte Dio mio Muori Non ti voglio più vedere E con Baskin Surf anche su di lui Mamma mia raga È stato tipo Forse il nostro secondo Barra terzo Pokémon Che abbiamo perso Flygon Set si chiamava Vedrà Mamma mia quanto era forte quel Pokémon Intanto otteniamo Light Screen Che spero sia utile in qualche modo Nel frattempo sono contento di vedere Che finalmente si sono randomizzati E cavolo Allora, Sasha Ice Beam Vero che lo shotto Madonna è fortissimo sto Pokémon Cioè abbiamo un team della Madonna Potrebbe essere il miglior team Che io abbia mai avuto nelle Nuzlocke Potrebbe anche esserlo Non ne sono sicuro Ma sicuramente si candida Ok, siete già troppe Siete già Randall In ritorno Anche se lo odiavano tutti Ma il ritorno di Randall Non è vero Scrivete nei commenti Se volevate bene a Randall Raga Perché io tantissimo Però so di alcuni Che lo odiavano Max Revive nel frattempo Che c'è in una Nuzlocke Sapete che no Lo utilizzate tutti i giorni Per revitalizzare la vostra voglia Di perdere Pokémon Olè Kirlia E giù anche lui Intanto John Frog Si sta allenando più degli altri Così di cattivi No Spell Tag è Cos'è Spell Tag? Tag raga Tipo Non vorrei sperare una cagata Ma Velo puro Tanto io sto coso qua Cosa me ne Cosa lo uso a fare Che tanto non li posso utilizzare Via Infatti mi pare che fosse Velo puro No Era Spell Terrorpan Non lo so raga O forse tipo Una targhetta Perché Tag è tipo Si una targa Boh vabbè Frega cazzi Shottiamo Reclute Come abbiamo sempre fatto Tra l'altro raga Ok che È viva Lo stavo dicendo Ok che si sono Rirandomizzate Però Caspita Quelli di prima Erano perfetti Da buttare giù Gli avevo Diciamo Praticamente Counterati E perfetto È ritornato Il nostro caro amico Che si teletrasporta Cosa ho visto Ditemi che non è successo Davvero Probabilmente Non ve ne siete Accord No Divi move Sei impazzito Cosa stai facendo Allora Rock climb Tanto Non ha effetto Headbutt Ed headbutt Guardatelo Guarda che Stronzo di merda Ok Perfetto Così va già meglio Oh merda A parte il fatto che L'uscita dalla porta Con stile Proprio È una caratteristica Di questo personaggio Allora Curiamoci i pokemon Nel frattempo Perché ragazzi Questa qua Sarà una battaglia Difficile Me lo sento Sia che sia in doppio Sia che non lo sia Perché Quelle due lì Hanno sempre avuto i pokemon Comunque di livello alto Quindi metterei davanti Sia E Tarzan Diamo Lucky egg Ad entrambi Perché magari Combattono entrambi Se fosse una battaglia in doppio Signori miei Eccoci qua Ti moscerò Che non saresti dovuto venire qui Questo È il momento Della tua sconfitta Ti ho sempre odiato Per interferire Nei nostri piani Utilizzerò tutto questo odio Per batterti Stupido allenatore No ok Perfetto È una battaglia in singolo Feraligator Livello 50 Sia ritorna Se questo qua mi fa Ok no Perfetto Bite Gigadrain è l'ultimo che ho Perfetto Critical Tarzan Sei un grandissimo Nel momento del bisogno Se ne è uscito Penso che nel gioco Non randomizzato Queste due qua Avessero tipo dei leggendari A giudicare dal fatto Che ne hanno solo uno in squadra Cioè È una supposizione mia Non ne sono assolutamente sicuro Magari Poi se ho tempo Mi informo Finito l'episodio Sia a livello 56 Battute Ma aspettavo molto di meglio Care mie Possiamo proseguire Ok Raga Quello con i capelli blu Non penso di averlo mai visto Temo Sia il capo Effettivo Tra l'altro Di bacche non ne abbiamo Quindi io non me la rischio E metto davanti Tarzan A parte che tanto Sia è già a livello 46 Non so raga Se può valer la pena Curarla o no Quante pozioni ho io Tre No ok Tengo così Aspettate Non sia mai Non sia mai Che sia una doppia questa Magari mi trollano Percy Wow Il mio equipaggiamento Di clonazione È terminato Il mio Anche Anche il mio Non c'è tempo Per Ah no Adesso È il tempo È il momento Di eseguire Il nostro La nostra fase finale Del nostro piano Cattureremo E cloneremo Arceus Immagina Un Arceus In ogni città In ogni In ogni villaggio Tutti sotto il nostro Controllo Permette Ci permetterebbero Che Tutti gli ordini Vengano obbediti Vengano eseguiti Vengano seguiti Vengano ascoltati E installare Ed insta Ci permetteranno Di fare questo Ok E di installare Un regime Di paura Di terrore Nel quale la pace Finalmente regnerà Tutto Sarà uguale Nessuno Sarà differente Da chiunque altro Nessuna 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 rabbia Sete No Non ci sarà fame Sete o violenza Non esisterà Nulla di ciò In questo nostro mondo Andiamo È il momento Di eseguire Il piano finale Catturare Arceus Con la Con la Pokeball Alpha Zio Ma fermali Cosa fa il nostro personaggio Raga È drogato Ma perché Allora A parte il fatto che Questa Ah ecco È vero È vero È la terza È la terza Stelle Questa è la terza E la finale Parte della scrittura Che la professoressa Jasmine stava cercando Ok Prendiamo l'alpha Scriptura Minchia Scriptura È proprio Bruttissimo Da sentir dire Ultraball Che si debba Catturare Arceus Ragazzi Tra l'altro Adesso presumo Che si sia Sbloccata la parte Quella Quella che avevamo Visto all'inizio Dell'episodio Vediamo un po' Se ci ho preso E no Davvero Davvero Quindi che cosa devo fare Uscire Ok C'è C'è la pioggia È un segnale Ma io cosa devo fare Moraga Sapete che Cioè In realtà Non lo so Perché io Di cose Non ne ho ottenute C'è una zona Che non posso Visitare Ma che Comunque Non si è aperta Aspetta No Non posso Magari Tipo C'è Il riconoscimento Qualcosa del genere No Ragazzi Come Nazlok Se non lo scopro Tra un attimo Stoppo Solo per vedere Magari mi sono perso Un pulsante Potrebbe anche darsi Però Raga Effettivamente Se il pulsante Non l'han premuto Loro Non è che potevo Farlo io Quindi Dubito che Io ci abbia visto Giusto sul pulsante Infatti Non c'è nessun pulsante Vediamo se Voi dite qualcosa No Siete inutili Allora 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 Proviamo a Capirci qualcosa Proviamo a Far quadrare Il tutto Allora Siamo qua fuori E ha iniziato a piovere Cosa che prima Non mi sembra ci fosse Ok Vediamo se Tipo Che Cazzo Bello Bello Sì Ma tanto Bello Allora Fermi Prendiamo quella Pokéball E poi Stoppo TM41 Vediamo anche che cos'è A sto punto Tanto Torment Perfetto Un tormento Staserie Stop un attimo E ci vediamo Quando scopro Che cosa devo fare Ok perfetto ragazzi Eccoci qua E nulla Dovevamo semplicemente Proseguire Tra l'altro mi sono accorto Adesso di questa Fantastica cosa Di quando Iniziamo a surfare Cioè praticamente Abbiamo la tuta E nulla Dobbiamo proseguire Da questa parte Perché Se prendessimo una mappa Che però Non abbiamo Noteremo che qua sotto C'è Drake Brave City Ossia la città Che se vi ricordate Nello scorso episodio Era quella particolare città Nella quale Pareva che il team Steam Stesse cercando Di ottenere qualcosa Insomma Il che è logico Dato che sono appena Scapati dalla loro base E presumo che in questa città Non lo so Si trovi Arceus Qualcosa E presumo che quella Sia una palestra di tipo lotta Si lo so Ditemi pure Che sono un genio Del male Ditemelo pure Scrivete Hashtag Creepy Malefico Allora Curiamoci Pokémon Per prima cosa E direi di esplorare Un attimino La città Allora Qua abbiamo Una casa Wow Le novità Della vita Come? Ah ok Questa qua è la Madre Del capopalestra Presumo Allora Mi sembra una città Molto in stile Ceneride Tipo una Ceneride prosciugata Si lo so che il paragone Potrebbe sembrare strano Ma mi sembra proprio così Questo qua Penso sia Il monte draken Esatto Me lo sono un pochino Spoilerato con i tutorial Che ho visto su internet Ciao Ok Prima della palestra C'è il team steam attack Perfetto Quindi Immagino di dover Porre fine Proprio Guarda caso Al team steam attack Ora Dove cavolo sarà Questo team steam attack Sentite che Che pronunce Proprio Ma Questa roccia Allora Uno è randomizzato Due è la cattura Del nuovo percorso Ok Dopo secoli È tornata Una cattura Randomizzata Non mi sembra Vero Comunque Questa cosa qua Lo butterò giù sicuro Quindi devo studiare Una strategia Sasha Che lo addormenti Senza pensarci due volte Lovely kiss Cioè la mamma Ok Me lo rischio Vero che non lo butti giù 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 L'hai pure confuso L'hai pure confuso Sasha Potentissima Allora Mi gioco una ultra ball Tra l'altro Che soprannome Gli do Sto coso Ho preso la kazan Perfetto Finalmente raga Un po' come ho randomizzato Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Lo chiamiamo Cracco Perché Perché c'è i cucchiai Quindi è uno chef Quindi lui è Cracco Perfetto Cracco è stato inviato Al pc E possibilmente Pure all'oltertomba Perché con un soprannome del genere È meglio che non vive Che figo Ok Perfetto Non è nulla di particolare Però raga Cioè Gli sprite dei pocaun In sto gioco Sono fatti benissimo E fate conto Che sono praticamente Fatti da zero Perché nel gioco originale Dubito che ci siano gli script Per degli sprite del genere Di qua Ok Di qua si prosegue Ah raga Questo qua è il percorso Sul quale Poi si Dal quale Poi si può giungere Secondo me All'altra città Ok Questo qua è il supermarket Dove Non so cosa si possa trovare Quindi per ora Non è nostra priorità La nostra priorità in teoria È capire dove Madonna dio È il team steam attack Vediamo che altri pocaun Si potevano trovare Tra l'altro Ma forse sapete Solo lui Perché in realtà Ehm Fatemi vedere No Anche un cancro di merda Ottimo Perfetto Cricketun Poi Vabbè Basta Mi sono rotto le balle Allora Ehm Devo ragionare Il team steam attack Do sta A sto punto Dovrò mica proseguire Per quel percorso lì Magari è lì Il team steam attack Allora Fermi Questa casa qua C'ha una sua utilità Oppure devo Uh Dragon Fang Perfetto Questa qua Questo potrebbe tornarci utili Figlio alloca Ok Perfetto Laga In stacrom Qua la gente scappa Io non so cosa dire Fermi Fatemi vedere un attimo la cartina Oh di qua non sembra esserci nulla di particolare Il monte draken Sembra essere Fra virgolette Una sorta di Posto Indicato Per una situa del genere Però Se mi dice che è tutto chiuso A causa del team steam attack Mi sta a significare Che non posso entrarci adesso Quindi raga Io Faccio Una cosa E io non ho pokemon Che possono imparare volo Sapete Non ne ho neanche uno E' una cosa che ho constatato ultimamente Non ho pokemon Che possono imparare volo E non ditemi Golbat Perché vi assicuro Che non può impararlo Si è una cosa assurda Sapete cosa vi dico Che mi rimetto un attimo In squadra set Per forza Altrimenti non ce la faccio Allora Insegniamogli volo Per sicurezza Così ci esploriamo Quel percorso Gli togliamo Le bite Tanto non lo possiamo usare Il ritorno di set in squadra Signori miei Comunque ovviamente Nella sidebar Non lo vedete Perché appunto Non è del team Noi proviamo a esplorare Sta zona Eps La cattura L'avevamo già fatta Figo Davvero E otteniamo E otteniamo la team E 47 Che contiene Ahimè Contiene una schifo No Doppio steel wing No ti prego Non è possibile Che Cleon Non ne aveva entrato Che Cleon Che schifezza Ok Penso Ma non vorrei dire una cagata Che siamo esattamente Tornati all'inizio Cioè Si esatto Quindi no Da questa parte Non c'è nulla La mia domanda è E mo Che cosa bisognerà mai fare Allora Io suppongo Che Si Dopo aver fatto Tutto sto casino qua Avrò tenuto l'ottava medaglia Mi diano la mia Sciallissima Pietra Ciao Buonanotte Cascata E si possa andare Al Tuo pescatore Hai qualcosa da dirmi A riguardo Com'è Wow Qua dentro si trova Trattini raga Peccato che Cioè Quando non deve essere Randomizzato Vabbè Che si possa utilizzare Sub da qualche parte Dubito Però potrebbe essere Una solution Volendo Qua forse Da qualche parte Non lo so Raga Tra un attimo Stop E vado a controllare Perché Altrimenti Non me la cavo più Anzi Direi che vado Adesso Perché tanto Ragazzi è una Nazlock Quindi alla fin fine La trama ci importa Un po' di meno Mi piacerebbe scoprirla Per i cavoli miei A meno che Proviamo ad esplorare Un attimino Il centro Commerciale Ma io dubito Che un attacco Del team steam Possa essere A un centro Commerciale Cioè Che senso avrebbe Questo cambio Questo cambio di musichetto Alla base Alla base del team steam In questo modo Avremmo ottenuto Diciamo Avremmo ottenuto Per ultima cosa Praticamente Le scritture Della professoressa Jasmine E a quel punto Andare Della professoressa Jasmine Il problema È che Diciamo Mettere Scusatemi Mettere Gli eventi Aver cambiato Gli eventi Come ho fatto io Non mi ha acceso La lampadina Le scritture Le dobbiamo portare Da Jasmine Però signori miei Per andare da Jasmine Dobbiamo utilizzare Volo Per utilizzare Volo Dobbiamo prendere set Ergo Dobbiamo depositare Un nostro Pokémon E considerando Che nella nostra Città natale Non mi pare Ci sia un centro Pokémon Potremmo dover Rinunciare A un Pokémon Ciò nonostante Conto Di poter andare Alla città Conto di poter Andare Velocemente Qua E poi Sì Non penso Che ci siano Problemi No Che magari Il gioco Mi teletrasporta Cose strane Non si sa mai Ritorna Qui Flygon E ok Perfetto Comunque signori miei Penso che l'episodio Lo concludo Appena prima di proseguire E la roba lì La facciamo nel prossimo A sto punto Perché altrimenti Ciao Altrimenti Non dura troppo Di sicuro Saremo già all'incirca Non lo so Penso 20 minuti 20 minuti E qualcosa Parliamo con Jasmine E poi vediamo Dove finiamo Eccoci qua Progressoressa Jasmine Sono riuscito A ottenere l'ultima parte Della scrittura Alpha Grande Questa tavola Completa le scritture Diamoci un'occhiata Incredibile Ora So cosa vuol dire Tutto ciò So perché il team steam Sta attaccando Zeri E sta cercando Il pokemon leggendario Intanto fuori Suonano cose Ti spiegherò tutto La storia inizia in un posto Chiamato Universo Alpha Ok Questo qua Sembra Il mondo Distorto Al contrario Cioè Il mondo Distorto Di Arceus Non so spiegarlo La nostra storia Inizia All'alba Dei tempi Prima dell'esistenza Dei pokemon Nell'universo Alpha C'era qualcosa Che stava cambiando Un uovo Apparve Che subito Iniziò a scuotersi E il primo pokemon Nacque Il primo pokemon Arceus Nacque Non è scuotersi E schiudere Ed eccolo lì Arceus Nella sua Magnificenza Arceus Era incredibilmente Potente Ma si sentiva Da solo In un mondo Vuoto Fu allora Che creò Un altro mondo Il mondo Distorto E Giratina Un altro pokemon Molto potente Scelto da Arceus Per governarlo Ed ecco Giratina Giratina Era anche lui Veramente potente E responsabile Del mondo Distorto Un luogo Esattamente Vuoto Come L'universo Alpha Arceus Creò Molti altri Pokemon Leggendari Subito dopo Vennero Dialga E Palkia A Dialga Fu dato il potere Del tempo A Palkia Il governo Sullo spazio Divennero I guardiani Di Arceus Arceus Continuò A creare Leggendari Creò Arceus Creò Le terre Gli oceani E il cielo Insieme ai pokemon Che li avrebbero Governati Growdon Chiogre E Raiquaza Figga però Che narrazione Jasmine Oh Due altri Guardiani Oh oh Il pokemon Arcobaleno Custode Del paradiso E Lugia Custode Della terra Furono Creati Arceus Continuò A creare Non c'aveva Voglia Di fare Dialoghi Probabilmente Eccoli Zekrom E Reshiram I prossimi Furono Quelli dopo Furono Reshiram E Zekrom I guardiani Di vita E morte Arceus Continuò A creare Pokemon Leggendari Creò Quelcoso Che penso Sia un Mew Buggato Esatto Creò altri Pokemon Leggendari Come Mew Che era Responsabile Della creazione Di tutti I pokemon Normali Ma recentemente Il team Steam Ha distrutto L'equilibrio Dell'universo Alpha Utilizzando Un'antenna radio Molto Molto Potente Che ha causato Lotte Tra i Pokemon Leggendari Arceus Ha utilizzato Il suo Potere Per fermarli Ma gli Sforzi L'hanno Indebolito Ghiratina Creato Con lo stesso Potere Di Arceus Sta provando A prendere Il suo Trono Arceus È troppo Debole Per Combattere Ora che Arceus È stanco Indebolito Per Dato Estacco E indebolito Dal Continuo Fermare Certe Battaglie È il momento Perfetto Per il team Steam Di catturarlo E ottenere Il possesso Del pokemon Più forte Che l'universo Abbia mai Conosciuto Il team Steam È diventato Così interessato In Arceus Il primo Pokemon Leggendario Perché ha creato Tutti gli altri Più specificatamente Il loro DNA Deriva Direttamente Dal DNA Di Arceus Molto bene Creepy Sembra che tu sia nato Per diventare un allenatore Leggendario Seguirò il tuo viaggio Ok signori miei E adesso Se tutto va come deve andare Nel prossimo episodio Potremo accedere Al monte Draken Detto ciò Spero che questo episodio Vi sia piaciuto Se è così Vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se non l'avete ancora fatto Mi raccomando Passate i social Che saranno in descrizione E rimanete sintonizzati Perché signori miei Stiamo per assistere Alla parte conclusiva Di questa serie Mi invito anche a rispondere A domande del giorno Che sarà come al solito Qua sotto nella sidebar E noi ci becchiamo In un prossimo video Ciao